Cosa dovrebbe fare un'amministrazione come obiettivo principale? Dovrebbe intanto salvaguardare quella che è la sua impiantistica, è chiaro che non la puoi salvaguardare se l'assessore ai rifiuti cambia con costante irregolarità, scusate il gioco di parole. Un'amministrazione non potrà mai gestire bene il problema dell'impiantistica e sui rifiuti se in corso d'opera cambia quattro assessori. Questo è il commento di Gaetano Cognata sugli ultimi disservizi collegati con il ripetuto mancato ritiro dell'umido per colpa di un centro di compostaggio inadeguato alle necessità del territorio. Ricorda così Cognata che da Paolo Mandracchi a Carmelo Brunetto fino all'attuale assessore Michele Bacchi, passando per i periodi intermedi di gestione assessoriale ad interim nelle mani dello stesso sindaco, sono intervenuti troppi cambiamenti in corsa perché ci si potesse occupare del problema con un'attenzione continua e determinata. Parliamo di ben quattro assessori che hanno trattato una tematica importantissima. Smentisce Cognata che il problema del centro di compostaggio sia stato generato dal piano aro di cui lo stesso ingegnere è stato da assessore responsabile politico. Questo era l'obiettivo principe di un piano aro che doveva essere redatto da un'amministrazione, cioè aumentare la raccolta differenziata e portarla a quelli che erano i parametri normativi, cioè raggiungere almeno il 65%. La tematica qui, come ho già detto altre volte, è legata all'impiantistica. Il nostro impianto di compostaggio non è adeguato a quelli che sono i quantitativi di umido che i comuni, con l'aumento della raccolta differenziata, riescono a conferire in questo centro di compostaggio. E quindi doveva essere attuato ovviamente un ampliamento. Ribadisce poi Cognata che in attesa del progetto di ampliamento dell'impianto di Santa Maria, per il quale, stando a quanto riferito dal presidente della SRR Greco Lucchina, ci vorrà comunque almeno un altro anno e mezzo, bisogna che il comune di Sciacca tuteli il centro di compostaggio permettendovi il conferimento solo a quei comuni che sono in regola con i pagamenti. Sappiamo che se qualsiasi comune cerca di andare in un'impiantistica di un privato o in un'altra impiantistica di un altro ambito, ha difficoltà a conferire se non paga con regolarità. Nel momento in cui c'è qualche comune che non è perfettamente in regola con i pagamenti, bisogna chiudere la possibilità di far conferire l'umido, perché sappiamo che il conferimento rientra all'interno della tassazione, per cui non è possibile che un comune non abbia i soldi per pagare il conferimento all'impiantistica di Sciacca. Poi peraltro il costo della discarica è passato da 83 euro a quasi 150, il costo dell'umido prima era 70 euro, ora abbiamo raggiunto anche lì cifre superiori a 120-130 euro. E quindi è chiaro che già il cittadino deve pagare questi aumenti in più del conferimento. Poi ha il disagio che l'impiantistica si blocca perché non è sufficiente a garantire i conferimenti e questa è una situazione inaccettabile perché si creano grandi disagi dal punto di vista igienico-sanitario. Sciacca è non solo il comune che ha all'interno della propria società questa impiantistica, ma anche il comune più grande è quello che ha il maggiore conferimento di umido. E quindi il comune che ha il maggior disagio nel caso in cui ovviamente questa impiantistica va in tirte. Sbagliata secondo Cognata anche la stessa interlocuzione da parte dell'amministrazione Valenti col governo della regione. Io e l'allora sindaco di Paola andavamo a Palermo ogni settimana per fare pressione sugli uffici. Tutte queste tematiche se non vengono costantemente spinte dal comune rimangono ferme per anni. E quindi il consiglio che bisogna dare a questa amministrazione è di essere costante e presente in questi che sono gli uffici regionali.